35 minuti sontuosi, in particolare i primi 15 del secondo tempo, poi 5 minuti di totale blackout, ma c'è il lieto fine per la Ponzio Pescara, che centra la terza vittoria consecutiva, interrompe la striscia di 9 risultati utili filati della Luparense e aggancia al sesto posto Asti. Priva di 4 elementi, il lungo De Genti, Ross e Battistoni, e gli squalificati Velasquez e Bico Pelentir, i biancazzurri sfoderano una prestazione attenta, accorta, l'approccio di quelli giusti, degno della caratura di un avversario che arrivava al palarigopiano con i galloni della vicecapolista, seppur con la pesante assenza dell'azzurro Vampeta, squalificato. La partita è subito bella, vivace, si gioca ad alto ritmo, si vede che la Luparense è in buona condizione e ha tanta personalità, tanto che con il passare dei minuti il quintetto di Fernandes aumenta il possesso di palla, ma si trova davanti un avversario all'altezza e pronto sempre alla risposta. Tremano i padroni di casa, ma Schurz salva sulla linea sul tentativo di Canal, poi è il portierone azzurro Barigelli a intervenire a mano aperta, sempre sullo stesso Canal, il migliore tra i lupi. La Ponzi non sta a guardare e a 3.40 dal riposo colpisce con una magistrale azione di uscita dal pressing, la ispira Edgar Schurz che poi va a raccogliere la palla di ritorno di Del Ferraro e poi alla sua maniera controlla e con un destro violentissimo lascia di Sasso Weber. Se il primo tempo è bello, il secondo è esaltante. Dopo quattro minuti il raddoppio è di un Nicolodi in versione monstre, Weber rinvia subito per innescare un contropiede, Nicolodi intuisce e uccella dalla metà al campo col suo sinistro, l'estremo difensore ospite. La Ponzi ha la partita in mano, Morgado sfiora il terzo gol e allora Fernandez cerca la mossa a sorpresa e a 13 della fine gioca la carta del portiere di movimento. Onorio spaventa Barigelli, la Ponzi colleziona 5 falli ma anche la Luparenze nel giro di pochi minuti da 3 sale a 6 falli mentre Morgado centra un clamoroso palo. Ed è allora la squadra dello squalificato Patriarca, in panchina Marco Pizzoli, ad usufruire del tiro libero, sfruttato alla perfezione da Dudu Morgado. È il momento decisivo della partita perché a cavallo tra il tredicesimo e il quattordicesimo prima Nicolodi recupera palla e dalla metà a campo firma la sua doppietta personale. Subito dopo Del Ferraro trova il primo gol al palarigo piano con una incredibile traiettoria dalla sua area di rigore complice a una dormita di Weber. 5-0 è partita sostanzialmente finita, lo pensano tutti, soprattutto i giocatori di casa, non la Luparenze che continua a giocare a testa bassa insistendo col portiere di movimento. Gli ultimi 5 minuti sono un piccolo calvario, mentre i giocatori di casa non aspettano altro che lo zero sul cronometro, i Lupi rosichiano il distacco con l'indomito Canal e con Emanuela Giala, a segno con una doppietta a testa. Dice tutto il quarto gol, propiziato da un errore di lucidità di PC. A quel punto mancano 43 secondi e seppur in apnea i biancazzurri portano a casa un successo prestigioso che blinda l'accesso ai playoff ed è ben augurante in vista degli ottavi di Coppa Italia. Giovedì contro Biceglie. Davvero bella Ponzio Pescara per almeno 35 minuti e sono arrivati i tre punti. Sì, assolutamente. Abbiamo giocato una gara come ci aspettavamo, con la grinta giusta, la concentrazione giusta, l'approccio alla gara è stato ottimo. Credo che sia una vittoria meritata, anche se alla fine abbiamo sofferto, ma la vittoria credo non ci siano dubbi sul risultato. Siamo un po' calati alla fine, qualcuno ha avuto qualche problema fisico, quindi abbiamo accusato. Però c'è tutto in una gara, quando ci sono due squadre e soprattutto quando incontri una squadra come la Luparenze è normale che c'è la possibilità che loro prendano in mano la situazione. Però noi comunque abbiamo retto bene, siamo andati sul 5-0 e certo spesso pecchiamo nel fatto che ci chiudiamo dietro nel momento in cui il risultato sembra il nostro vantaggio. Però comunque è andata bene, insomma siamo contenti così. Si vede una squadra più continua, vittoria a Putignano, prima ancora la vittoria con Cagliari, ora quest'altra vittoria. Insomma le cose ora vanno per il verso giusto. L'obiettivo nostro, soprattutto oggi, al di là del risultato, era proprio quello di cercare la continuità. Dopo la partita di Putignano ci siamo ripetuti alla grande e credo che durante la stagione proprio la continuità ci mancava. E oggi, insomma, stiamo sulla strada giusta, soprattutto in prospettiva della Coppa Italia. Fino al 5-0 una grande Ponzo Pescara e anche la soddisfazione di un gran gol. Sì, sono molto contento per questo gol perché è il mio primo di questa stagione qui a Pescara. Siamo molto contenti per questa vittoria, comunque è una soddisfazione vincere contro l'Uparenze. Peccato per gli ultimi 5 minuti perché, secondo me, abbiamo buttato un'ottima gara, dominata 35 minuti. Peccato per questi ultimi 5 minuti che ti lasciano quel bozzo dentro che comunque è tosto da togliere. Un giovane italiano in un gruppo di grandissimi campioni, come si trova del Ferraro in questa Ponzo Pescara? No, benissimo, benissimo. Il gruppo è ottimo. Mai avuto un gruppo così unito che lotta comunque per un unico obiettivo. Speriamo di proseguire per la giusta strada.